Se la culla è avvorcuta, Pantheon avrà la base ben difesa. Ci avviciniamo a bassa quota e atterriamo lì vicino. E la palla passa a Tissed. Vediamo, camminare fino alla base ed entrare. Puoi trovare un uniforme di Pantheon per infiltrarsi. Fattibile. Tu sai farlo. Una volta dentro per lustra la base. Dobbiamo sapere che difese hanno e se le puoi indebolire in qualche modo. Sabotaggio. Credo proprio che mi divertirò. Neutralizzate le difese, potremo intervenire noi. Quindi troviamo e acquisiamo la culla. Ti senti pronta? Lascia fare a me. Massiccia presenza militare. Sono tutti di Pantheon. Riesci a passare? Sono già dentro il perimetro. Devo solo calarmi nella parte. Tienici aggiornati. Lui andrà bene. Ehi, finalmente è tornato. Devono fare il rifornimento e ricaricare al più presto. Avvisalo. Chiudo. Marshal, sono in uniforme. Ora faccio una piccola ricognizione. Qui pendiamo dalle tue labbra. Vedo il sito, Sam. È pronto al lancio. Stai pensando di piazzare delle cariche su quel coso? Forse. Oppure potrei sabotare le testate inutilizzate e magari convincerli a scambiarle. Sicuro, se troverai qualcuno disposto a farlo. È una possibilità. Un elicottero d'assalto è atterrato in una zona recintata. Potrei metterci una carica sopra. Se riesci ad avvicinarti. E stanno per fargli il pieno. Potrei fare uno scherzetto col rifornimento. Potresti aggiungerci un po' d'acqua. C'è un posto di guardia. Potrei fare amicizia con il soldato all'interno. Qualche altra opzione? Probabile. Pare che stiano portando qualcosa a bordo. Posso approfittarne. Accomodati. Hanno una parabola di tutto rispetto. Già. Dobbiamo occuparcene a più presto. Potresti piazzare una carica sulla parabola. Oppure staccare la corrente. Deve essere collegata a un generatore. Qualche altra opzione? Vedo qualcuno dietro una finestra di sicurezza. Potrei farci due chiacchiere. Neutralizzati tutti i tre bersagli, saremo in ballo. E, Sev, occhi bene aperti per la colla. Deve essere in quella base. Lui ci vuole un tocco della mia magia. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno un cazzo. Voglio andarmene da qui. Doveva essere un incarico di tre giorni, non una settimana. Potrei imbottire i veicoli d'esplosivo. Buongiorno un cazzo. Potrei piazzarla su una delle loro difese. Hidalgo, ci sei? Parla pure. Aggiornamento? Niente di quanti conti. Ehi, l'ho sentito. Acqua. Potrebbe fare grossi danni se finisse nel carburante dell'elicottero. Girovoce che tra poco ce ne andremo via. Ma tu non hai lavorato nell'aeronautica? Sì, per un anno. Poi mi hanno trasferito. Ho capito che le altezze non fanno per me. Hai provato nella guardia costiera? Spiritoso. Two. Tarim. Tarim. Otto. Due, tarim, tarim, otto Due, tarim, tarim, otto Due, tarim, tarim, otto Non dovrei lasciare in giro questo corpo Due, tarim, tarim, otto Due, tarim, tarim, otto Due, tarim, tarim, otto Due, tarim, tarim, otto Non lo sono immaginato Due, tarim, tarim, otto Me ne servirebbero altri Due, tarim, tarim, otto Due, tarim, tarim, otto Ok, ho aperto il pannello Non vedo niente del genere Non ci vedranno arrivare se il loro radar è in mille pezzi Radar nemico pronto a saltare Così non ci vedranno arrivare Ora passa all'elicottero e al sito sano Decidi tu in che ordine Non ci vedranno Non ci vedranno Non ci vedranno C'è una sbira! Troviamo qualcosa. Cerca di calmare le acque se riesci. Qualcosa da segnalare? Nessuna attività. Torna al lavoro allora. Trovato qualcosa? Trovato qualcosa. Trova Cons Gastro. Trovi. Grazie a tutti. 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 Forse posso accelerare le cose. Perché ti interessano tanto queste testate, comunque? Non ti ho mai vista da queste parti. Certo, però quelli non sono ancora pronti. La prossima settimana saremo già lontani. Senti, qui sei nuova, l'hai ammesso tu stessa. Hai ancora molto da imparare. Alla prossima. Alla prossima. Mi stanno alle costole. Servono rifarsi. Mi stanno addosso. Ho rischiato grosso. Sono al computer del sito Sam. Non ti resta che riprogrammare il sistema di puntamento. Devo solo indovinare quest'altro codice. Qualcosa da segnalare? Qualcosa da segnalare? Si ricorda che queste porte devono restare chiuse prima alla demutazione dell'antipendio. Grazie. 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 Vieni Matteo, comandante Non c'è abbastanza tempo per una completa... Sì, il rischio di contabilità... Valuterò tutti i rischi Comandante, sì Abbiamo fatto ciò che dovevamo, l'arma è partita Dobbiamo evacuare prima che la CIA o i sovietici ci scoprano, chiaro? Agli ordini Qui la situazione è ancora tranquilla, ma non lo sarà per molto Seguitemi Ho brutte notizie Dimmi tutto Hanno postato l'arma, Harrow l'ha detto chiaramente Jane è qui, ora? L'ho appena vista sulle telecamere, in un laboratorio, credo sotterraneo Merda Nuovo piano, ci serve qualcosa Spacchiamo tutto e prendiamo Harrow in colme Ho domande da farmi Cercherò una via per scendere In movimento Serv, sparazziamoci di quel radar Con piacere Argus 1, mezzo aerei in avvicinamento rapido dal nord-est Ci siete? Niente Sembrerebbe uno Carri, ma ci stanno sparando Animo che arriva Sì Sì Taccere dentro, Kate Serv, ci avviciniamo alla base Come procede lì da te? Mi dirigo al punto di raduno Credo di sapere dove trovare altri Finalmente buone notizie Missile partito Torre di guardia Sam e delicottero in arrivo Sam Lui al plesso di uno Contatto, contatto Mi sparano con armi del genere Tirando di più in basso, Kate Sparli fuori RPG sotto di noi Senti Sparli via Nemici nel piazzale Sparli fuori Il nostro testo è a sinistra I lucernati Felix, guidaci tu Kate, nemici laggiù Sparli fuori Bel lavoro Scendiamo Kate dietro di me Adler, tu segui Kate Kate dietro di te Tempismo perfetto Mi serve una mano La tua parte tu solo E dall'altra parte della base Ovviamente Va avanti tu Avanziamo Gravata Via Via A presto! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.